LILA Lei è Lila. L'abbiamo fatto all'elementare insieme. Gli amicizie lunghe sono importanti. Perché non metto che hai ritornato lì? L'altro dopo un avrei, no? L'altro non mi è morto. Ed è sì. Toggi a ricerci una cosa. E' una cosa che hai già fatto per te. Quanto sei intelligente! Ma quanto sei coraggiosa! Ciao, Greca! Guardameli! Imbroia tutto quanto, Elena. Guardalo! Aiutami. A che servo? Ma se venga, tu ci stai. E' proprio vero che basta un attimo per cambiarti la vita. Tu che ne sai di quello che voglio io? Perciò ti auguro di provare, almeno una volta nella vita, quello che sto provando io adesso. La cenaggio a con la vita e né abbiamo adesso. È un anno di nuovo, stoppa! Ilono deve asseoscurare il progetto aiuto con nessuno di mani. E ho fatto un anno della vita. Mas diyore un anno di portatorio e con nessuno di eternissimo, Qui è� Scary One, che non me deve essere presente la vita mia, Grazie a tutti.